Buongiorno, mi chiamo Barbieri Flauber e sono venuto qui a questo centro perché avevo una patologia, un conflitto omeroscaporare che mi portavo dietro da diverso tempo e che mi aveva praticamente inibito l'attività, io sono un giocatore di tennis, ho trovato la pubblicità e sono venuto qua e devo dire che fin dall'inizio ho trovato competenza, professionalità e soprattutto umanità perché il dolore era forte, fin dalle prime sedute io ho visto nettamente dei miglioramenti, ho fatto tutto il mio ciclo di trattamenti e anche di fisioterapia sempre con lo stretto osservazione del personale qualificato e devo dire che ho risolto brillantemente il mio problema, io adesso oggi sono all'ultima seduta, dopodiché dovrò fare delle piccole sedute di controllo eccetera eccetera, però devo confermare che sono perfettamente guarito, ho delle situazioni che prima avevo e adesso invece sono perfettamente guarito, diciamo così. Quindi ringrazio lo staff medico, fisioterapistico e amministrativo che con competenze e professionalità mi hanno permesso di superare questo momento e lo consiglio veramente ad altre persone se avete dei problemi di tipo soprattutto nel mio campo scapolo merale di frequentare, di venire a questo centro perché secondo me avrete degli ottimi risultati e auguro l'occasione, buona festa a tutti.